Buonasera questa sera vi voglio parlare di una cosa di una banalità spaventosa i soldi i soldi ci servono per comprare un telefono ci servono per comprare da mangiare ma i soldi qualcuno ancora non ha capito vengono stampati da una società per azioni le banche queste meravigliose spa che ci danno il denaro in cambio di che cosa olio di gomito è la nostra fatica dietro a quel denaro è la nostra fatica quotidiana il sudore che quotidianamente noi dobbiamo fare per riuscire a portare a casa del denaro ma se questo denaro venisse stampato dallo Stato cioè quando lo Stato tornerà a fare il suo lavoro cioè tornare a curare gli interessi dei cittadini saremo tornati in democrazia vi lascio adesso un discorso di un'altra banalità sconvolgente io continuo a battermi affinché le persone cerchino davvero di capire che dietro il signoraggio bancario è nascosta la più grande forma di schiavitù moderna del giorno d'oggi quando tutti lo capiranno utilizzeranno molto probabilmente qualcuno la violenza qualcuno la mia violenza la mia la mia una violenza pacifica ed io non pago questo è il comitato questo è il modo di fare corretto per rispondere a questi sciacalli che vivono dentro le banche vi lascio a un bel firmato condividetelo in rete se approvate quello che io vi sto dicendo inventamos una montagna de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida perché quando io compro qualcosa o tu non lo compro qualcosa lo compro qualcosa con il tempo di vita che ti 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 E' miserabile gastare la vita per la libertà. Non so quando sia accaduto, ma a livello temporale posso solo dirvi che John Fitzgerald Kennedy nel 1963 aveva capito tutto e avete visto com'è finito. Che cosa farà Trump? Un pazzo? Non lo so. Però di sicuro se entra nella storia è perché lo hanno ammazzato per essersi ribellato al potere di questa stampa del denaro. Bene, io penso che l'attuale politica non sia in grado di difendere noi cittadini, ma sono convinto che se ognuno di voi comincia a seguire le regole che Gandhi ci aveva indicato, cominciate a non pagare più banche e finanziarie, toglietegli il potere. Questo è l'unico modo che avete per uscire dalla nuova schiavitù. Ah, potete anche non farlo, continuate pure a pagare. Avete accettato di essere schiavi moderni. Unitevi a noi, smettete di pagare, ma fatelo col cervello, non fatevi portare via tutto. La burocrazia c'è per loro, ma usiamo la nostro vantaggio. Vi spiego io come uscire dai debiti senza pagarli, o pagandoli in minima parte. Io ho smesso da tanto tempo di fare il servo, il cameriere del banchiere. Sono fuori uscito con coraggio dal sistema bancario. La mia speranza è che ognuno di voi voglia ritrovare l'essere umano che c'è in sé e dire basta a questo sistema bancario in mano a dei delinquenti, da tante generazioni, non solo da queste. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.